Questo mugshot non è certo un timido Ok, ora sappiamo che è qui da qualche parte Ma come possiamo fare per trovarlo? Nesa City è una città molto grande Visto che è un bulldog, pare sensato che abbia scelto di vivere all'interno del grande idrante In un certo qual modo sembra logico Bene, adesso ti serve solo un modo per accedere alla base dell'edificio Sono sicuro che troverò qualcosa Prova, prova! Qui è il boss Certo mandare tutti fuori città Nonostante fosse necessario per tirare sulla baracca Non è stato un bel colpo per gli affari Sono il primo ad ammetterlo Quindi ragazzi Spero che voi sappiate obbligare chiunque entri d'ora in poi in città A perdere i suoi soldi nel mio casino Ma... Ho sentito voci su un poliziotto che ronza intorno all'operazione Quindi d'ora in poi salutate ogni visitatore che vedete con un grido Capito? Maury è in posizione e può andare a prendere la chiave Ok, e allora che faccio? Forniscigli del fuoco di copertura con la postazione d'assalto Ottimo Usa la levetta analogica sinistra per mirare E premi il tasto quadrato per fare il fuoco Farò del mio meglio Sto per entrare, Sly! Perfetto Perfetto Sono a metà Sono a metà No mi sto avvicinando ce l'abbiamo fatta a